Senatrice Comaroli, ancora una volta nella legge di stabilità il governo si dimentica del nord, dite perché? Sì, assolutamente, perché noi riteniamo assurdo che vengano destinati 110 milioni a Roma Capitale, sappiamo tutti che cosa sta succedendo qua a Roma Capitale, quando noi avevamo chiesto di destinare queste risorse alle regioni che hanno avuto il dissesto idrogeologico. Secondo noi ritenevamo molto più importante questo aspetto, così come anche un'altra cosa assurda, anche in questo caso il governo ha presentato degli emendamenti che vanno a favore del terremoto che è avvenuto nel sud 24 anni fa e si dimentica, guarda caso, del terremoto avvenuto in Emilia. Noi qua abbiamo presentato emendamenti, continueremo a battagliare fino in fondo perché noi ci crediamo, è ora di finirla, che venga privilegiata solo una parte d'Italia e guarda caso la parte che invece ne viene svantaggiata è sempre soltanto il nord.